È brutto dirlo, l'avevamo detto, però è così, noi abbiamo sempre criticato questa moneta, il dibattito non era dentro fuori dall'Euro, il dibattito era trovarsi al momento in cui questa moneta sbagliata, perché questa moneta si scrive Euro ma si legge Marco, è evidente che questa moneta è stata ritagliata, costruita, impostata su esigenze e bisogni, è stato un vestito costruito sulle necessità di un altro paese e di un altro popolo, noi abbiamo sempre detto che la lungimiranza politica avrebbe voluto e avrebbe imposto che in un momento come questo, se mai ci fossimo trovati in un momento come questo, bisogna pensare a qualcosa di diverso, a qualcosa di alternativo, io temo che questo momento o mi auguro, dipende dai punti di vista, che questo momento è arrivato e quindi bisogna interrogarsi su qualcosa di diverso, fermo restando che io non mi auguro il fallimento della Grecia, perché il fallimento della Grecia sarebbe oneroso da un punto di vista economico anche per il nostro paese, però è un dato di fatto a cui noi oggi siamo arrivati, da cui non si può più assolutamente scappare, io voglio ricordare, poi chiudo, che qualcuno qualche anno fa diceva attenzione perché con l'Euro noi lavoreremo un giorno in meno ma guadagneremo come se si fosse lavorato un giorno di più, non abbiamo più lavorato e non abbiamo più guadagnato, questo lo disse Romano Prodi nel 2000, quindi gli effetti devastanti di questa moneta lo si stanno vedendo soprattutto sui popoli e soprattutto sulle economie e sul lavoro, l'Euro non ha portato lavoro, l'Euro ha portato disoccupazione e crisi economica che è quella che vediamo sotto gli occhi. Dopodiché.